Il campionato ha dimostrato che è equilibrato e bisogna dare sempre il massimo, anche se il risultato dice che è un 8-0 secco e senza storia. In realtà il primo tempo è stato equilibrato quasi fino alla fine. Siamo stati poco cinici sicuramente nel primo tempo, però la squadra ha dato il massimo. Sono contento anche perché ha concretizzato i calci piazzati, ha fatto un bel gioco, quindi sono molto soddisfatto. Bene dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, è un atletico marcianise che va alla grande e dunque rimane saldamente in vetta. Dal punto di vista fisico sta bene nel senso che continua a giocare ottime partite su ritmi alti, però abbiamo l'infermeria ancora piena perché oggi avevamo fuori Schall e De Martino che comunque in questa categoria sappiamo bene il valore che hanno, però devo dire che ho a disposizione tutti ottimi ragazzi e quindi sappiamo sopperire anche a queste difficoltà. Adesso il marcianise si prepara a una serie di partite che possono già delineare un po' il resto del campionato perché l'atletico lotta per la promozione, adesso bisogna vedere chi mantenerà il passo vostro. Sì, noi sicuramente siamo chiamati a un compito difficile perché adesso abbiamo due trasferte entrambe insidiose, sia a Cicciano che a Parite. Direi che per noi è un momento importante, ci arriviamo in un buono stato di forma, spero di recuperare qualcun altro che oggi era fuori, però in generale la squadra sta bene, i ragazzi si impegnano e sono contento, credo che ce la giocheremo in entrambe le trasferte. Tre gol, tanto sacrificio, una partita perfetta non solo da parte tua ma da parte di tutta la squadra. Sì, finalmente riesco a concretizzare tutto il lavoro fatto durante gli allenaventi in questi mesi, comunque è stato anche grazie ai miei compagni che sono arrivati a segnare, a mettere a segno tre gol importanti per andare avanti. Come del resto anche tutti i miei compagni mi hanno aiutato in tutto questo e ancora una volta si è dimostrato un grande gruppo intorno a tutti quanti. Tu sei uno storico del calcio a cinque di terra di lavoro, la tua opinione su questa squadra è davvero la più forte? Allora, io non mi espongo mai, non faccio mai dei pronostici dicendo che è la più forte. Sappiamo il valore di ognuno di noi e insieme possiamo dare tanto, lo stiamo dimostrando, siamo un'ottima compagine e soprattutto siamo un grande gruppo. L'abbiamo dimostrato nei momenti di difficoltà, quando ognuno di noi, ogni compagno si è trovato in un momento particolare, se ci siamo inuti abbiamo unito le forze e siamo andati avanti e abbiamo vinto sempre di più. Adesso due trasferte di fila insidiose, ma sono comunque trasferte che questo atletico può superare. Sì, se manteniamo la calma, ci alleniamo bene, la prepariamo bene durante la settimana, sicuramente possiamo concretizzare e portare a casa i sei punti all'intera posta, sono convinto di questo.